Un nuovo festival parte sabato 21 maggio dall'azienda Agricola Deleiva nel cuore del Parco San Bartolo. Si chiama De Canto e in 17 appuntamenti unirà i concerti promossi dall'Orchestra Sinfonica Rossini alla bellezza territoriale e all'eccellenza qualitativa di altrettante aziende vitivinicole marchigiane. All'azienda Deleiva alzerà il sipare su De Canto il concerto U2 tra rock e spiritualità attraverso la voce straordinaria di Clarissa Vichi. De Canto è una nuova iniziativa dell'Orchestra Sinfonica Rossini sostenuta dalla Regione Marche e da altre amministrazioni pubbliche e con anche uno sponsor l'azienda pesarese Oikos. Questa iniziativa si basa essenzialmente su due aspetti. Uno la capacità dei professori della Rossini di esibirsi in piccole formazioni cameristiche di fatto in versione da solisti. E l'altra è lo straordinario patrimonio di aziende vitivinicole del nostro territorio. Il nostro referente dell'orchestra, il maestro Bruno Maronna, ha fatto un giro preventivo nel territorio e ha scoperto questa immensa bellezza perché sono luoghi belli e i prodotti del nostro territorio sono davvero di grande qualità. E quindi abbiamo pensato di unire musica e vino in una nuova iniziativa anche seguendo le direttive della Regione Marche che vogliono sostenere soprattutto il territorio, i prodotti e quindi unendo due settori in un progetto interdisciplinare. Attraverso la cultura esaltiamo il nostro territorio anche da un punto di vista enogastronomico e quindi cerchiamo appunto di far connettere i settori come abbiamo fatto nell'ambito della legge dei borghi dove cultura, turismo e enogastronomia insieme all'artigianato sono interconnessi. Saranno 17 i concerti, tutti differenti proprio perché sarà di fatto un'orchestra che si esibirà in tante piccole formazioni e saranno dal 21 maggio fino alla fine di luglio quindi si possono trovare tutte le informazioni nel nostro sito orchestrarossini.it e nelle pagine social sia dell'orchestra che di Decanto.